Ed eccoci pronti con l'ultima parte di questo pomeriggio, di questa giornata dedicata proprio alla celebrazione. Uso questa parola per Francesco, mi sembra quella più giusta perché dobbiamo dare dei riconoscimenti, dei premi. Corretto, come l'anno scorso e come in tutte le occasioni del nostro convegno annuale, il momento clou è quello della premiazione dei nostri partner e delle eccellenze dei partner che hanno collaborato con noi durante l'anno. Infatti siamo arrivati sul nostro palco, nei nostri studi, proprio per dare ancora più forma a questo momento importante che chiude la convention e che però vuole sottolineare i risultati raggiunti e le sinergie che si sono consolidate sempre di più. Certamente. E allora se sei d'accordo io andrei proprio nel vivo di questa premiazione e andiamo a vedere qual è la prima categoria. La prima categoria è la miglior performance nell'accessione del quinto. Il perché di questo premio? Allora, la miglior performance perché corrisponde a un ottimo livello di produzione, quantitativo, ma non soltanto quantitativo, anche qualitativo. Il miglior rapporto tra rapporto sinistri premi, per cui grande attenzione alla produzione che è stata fatta. E allora a me spetta dire a chi va il premio e naturalmente chi ritira questo premio. Allora, il vincitore è ADV Finance, ritira il premio Giorgio Panico, amministratore delegato. E naturalmente è in collegamento con noi. Giorgio, bentrovato. Grazie, grazie. Siamo davvero lusingati per l'assegnazione di questo premio, del quale vi ringrazio a nome di tutti i colleghi e degli agenti di ADV Finance, oltre che ai colleghi della capogruppo Banca Privata Leasing. Beh, insomma, lascio a te per Francesco dire qualcosa di più. Allora, il mercato della cessione del quinto non è un mercato facile, tu Giorgio lo sai, lo conosci molto bene. Aver espresso dei livelli di produzione a cui corrisponde anche una grandissima qualità della produzione non è una cosa così semplice. vuol dire avere un ottimo controllo della propria rete distributiva, un ottimo controllo della qualità dei processi di acquisizione dei prodotti assicurativi e ovviamente del rilascio dei finanziamenti. Quindi direi che è un premio decisamente meritato e sottolinea una partnership che sta diventando sempre più importante per entrambi. Giorgio? Grazie. Sì, devo dire che questo gradito riconoscimento è un messaggio importante per la nostra struttura che è sempre molto impegnata a migliorare i processi, l'organizzazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi, soprattutto nella fase di onboarding delle richieste di finanziamento. Ottimo, quindi la parola rete in questo caso, appunto come hai detto anche tu, diventa sempre più importante. Grazie per essere stato con noi a Giorgio Panico e complimenti per questo riconoscimento. Grazie. Ringrazio tutti voi di Affiesca e anche il prezioso supporto del broker che ci segue, Class Consulting. Grazie ancora a tutti voi. Grazie, grazie. E proseguiamo dunque con la prossima categoria. La categoria è miglior produttore. Motivazione? Allora, per gli ottimi risultati conseguiti nella produzione, chiaramente nella raccolta premi, ma anche nello sviluppo commerciale e l'acquisizione quindi di nuovi contratti e partnership. E allora andiamo a vedere a chi va a questo premio, naturalmente anche chi ritira il premio. Il premio va a Class Consulting e ritira il premio Luca Zuccaro, socio amministratore. Luca, naturalmente collegato con noi. Luca, ben trovato. Grazie per essere qui e complimenti. Grazie mille. Ben trovati a voi. Ringrazio immensamente Pio Francesco Basilico e Affiesca per questo riconoscimento che avvalla e consolida ormai un rapporto storico di collaborazione partito nel 2015 e che ci vede oggi in un trend di forte crescita e di consolidamento del brand a chi esca sul mercato della gestione del quinto e sul mercato assicurativo italiano. Quindi un grazie da parte di tutta la struttura di Class Consulting per questo rinnovato premio e rinnovato rapporto di trasparenza e collaborazione con la compagnia. Insomma un rapporto che diventa sempre più solido di anno in anno. Ma assolutamente sì, come ha sottolineato Luca partiti nel 2015 con veramente un'innovazione totale perché questo mercato ci vedeva iniziare da zero, quindi una grandissima collaborazione non soltanto nei volumi, nei risultati che poi si sono conseguiti, ma proprio in una partnership strutturale che ha determinato per entrambi una grossa crescita in questo mercato con dei risultati assolutamente soddisfacenti. Ottimo, benissimo. Luca grazie, grazie ancora complimenti naturalmente. Grazie, grazie mille. Scopriamo qual è la prossima categoria. Miglior produttore premi ricorrenti. I premi ricorrenti sono la vera forza di una compagnia assicurativa e di un distributore assicurativo. Con questo premio vogliamo premiare l'ottima performance raggiunta nella raccolta di premi periodici che hanno una loro caratteristica precisa e in questo settore che andremo a premiare hanno anche una motivazione molto particolare. E allora scopriamo subito a chi va questo riconoscimento. The winner is... Henia Insurance Broker ritira il premio. Alberto Chiesa, presidente. Alberto, ben trovato e collegato con noi naturalmente. Complimenti. Buongiorno a tutti, grazie, grazie. Sono molto contento di questo premio in questa per noi area nuova dei premi ricorrenti che impatta in maniera molto positiva nell'ambito del nostro mercato, quindi delle nostre reti relative proprio alla mediazione del credito. Io volevo ringraziare a Fiesca perché in questi ultimi quattro anni veramente abbiamo consolidato un rapporto di collaborazione molto importante e soprattutto ringraziare a Fiesca e tutto il suo staff per la grande disponibilità e la grande flessibilità a risolvere tutte quelle che sono le nostre esigenze e proprio per la nostra rete al fine di ottenere veramente modalità molto flessibili e soprattutto modalità che ci portano proprio a questi risultati. Grazie a tutti. Pierfrancesco, come sempre un commento da parte tua. Grazie Alberto per questi commenti positivi sul nostro staff e la nostra compagnia. Devo a mia volta dire che chiaramente il rapporto con Egna è da sempre connotato e improntato a una grande risposta all'innovazione. Fin dall'inizio avevano sposato l'idea dei premi ricorrenti, hanno sposato poi in particolare il lancio sul mercato di un nuovo prodotto che li ha visti tra i primi distributori in assoluto di questa novità sul mercato. Quindi ancora complimenti per la grande performance di quest'anno. Grazie. Grazie Alberto Chiesa, Presidente Enea Insurance Broker. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Miglior Consulente Polizze Vita Sì, è una categoria a cui teniamo moltissimo. Siamo una compagnia vita. Siamo distributori di prodotti individuali, quindi di prodotti vita che devono essere molto customizzati, molto personalizzati e sul vero profilo del cliente in una perfetta percorso di consulenza. Questo premio va a riconoscere la perfetta interpretazione di questo processo di consulenza nei confronti del cliente finale. Allora dobbiamo dirlo belli carichi, no? Assolutamente. Il nome del vincitore è naturalmente chi ritira il premio. Vince il premio Prime Life e ritira il premio Emanuela Lorini, responsabile dell'intermediazione. Naturalmente diamo a lei la parola per i ringraziamenti complimenti. Grazie Emanuela, grazie dottor Basilico, buon pomeriggio a tutti. A Fiesca, una compagnia innovativa e competitiva, un mix perfetto che è associato al suo team giovane e professionale sempre presente, ci mette a disposizione un servizio impeccabile con scabbio di informazioni veloci, chiare e concrete. È per quello che i nostri clienti a Fiesca piace e lo fa piacere di più di tutte le altre compagnie che offrono questi tipi di prodotti. I prodotti a Fiesca più gettonati nella nostra Prime Life sono quelli di protezione. e risultano efficaci al passo con i tempi, sia per il cliente, in quanto i premi sono flessibili e modulabili in base all'età. E questo fa sì che l'impegno economico possa seguire il ciclo di vita del cliente. Ma anche per la nostra rete vendita, perché è una modalità di riconoscimento provvigionale e continuativa negli anni. E questo consente di creare un portafoglio fidelizzato nel tempo per riconoscere provvigioni nel tempo. Che altro dire, grazie ancora a nome di tutta la Prime Life per questo importante riconoscimento. Un saluto a tutti. Grazie, grazie. Grazie. Allora, Rini, beh, bellissime parole. Sì, infatti, molto molto colpito. Andiamo avanti con la prossima categoria. Che è quella, come avete visto, di miglior partner InsurTech 2021. Però, Pierfrancesco, io non siamo mica più da soli qui. Eh no, che non siamo più da soli. Eccoci qua. Io credo che per la premiazione di questa categoria, il conferimento di questo premio, sia corretto. Lasciare la parola a Luca Loforese, che è la persona che ha seguito tutto lo sviluppo InsurTech in questo anno a Fiesca. Quindi, Luca, a te la parola. Allora, la motivazione da te, insomma. Perché questo premio? Sì, beh, allora, innanzitutto grazie, ben ritrovati. In un anno come quello appena passato, che ha visto tante implementazioni al lato digitale di a Fiesca, non potevamo non inserire il premio anche legato all'InsurTech. E come premiato abbiamo scelto il partner che ci ha proposto il miglior progetto, sia più motivante che soprattutto più ambizioso. E quindi andiamo a scoprirlo. Lasciamo un attimo di suspense, come sempre si fa. Il vincitore è Crea assicurazioni e ritira il premio Iliana Liontu, Head of Operations. Che naturalmente è collegata con noi, ben trovata Iliana e naturalmente complimenti per questo premio. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille. E vorrei ringraziare a Fiesca e Luca, chiaramente Luca Loforese, per averci riconosciuto come miglior partner InsurTech per il 2021, per aver intrapreso questa collaborazione con noi a beneficio di entrambe le parti. Come in ogni collaborazione di successo, il lavoro viene svolto offrendo ognuno le proprie migliori competenze, creando così una sinergia vincente. Quindi nel nostro caso, la base di cui partiamo è già di per sé un fondamento che promette il meglio, poiché noi esattamente come a Fiesca operiamo attraverso il digitale, quindi abbiamo in vantaggio di condividere la stessa vision e gli stessi valori. Quindi siamo molto contenti e grazie ancora. Un commento se volete da entrambi, insomma, Luca per Francesco. No, allora sottoscrivo quello che ha detto Iliana, perché fin da quando ci siamo conosciuti, devo dire che abbiamo sempre avuto la stessa visione e la stessa lunghezza d'onda. Quindi collaborare, devo dire che è stato molto semplice. Adesso stiamo mettendo in piedi appunto questo progetto veramente importante, che vedrà la luce nei prossimi mesi, quindi aspettiamo, incrociamo le dita, ma siamo molto fiduciosi. Certo, certo, certo. Due parole sull'insurtech in generale. Nel mondo assicurativo non ci sono differenze rispetto agli altri mondi, ci sono delle grosse influenze che sono influenze di tipo moda o di tipo necessità. Sviluppare nell'insurtech perché in questo momento è un concetto di moda non avrebbe senso. Svilupparlo perché ci crediamo, ci crediamo profondamente in quello che può portare, è la cosa fondamentale. Quindi direi che quello che contraddistingue l'approccio insurtech di Affiesca e la ricerca dei partner in questo approccio insurtech è proprio quello di crederci profondamente e di non fare le cose soltanto perché sono una moda. Ottimo, beh, direi che questa è la chiusa giusta, assolutamente, anche per guardare oltre e avanti. Grazie Eliana Liontu, complimenti a Crea Assicurazioni per questo premio. Grazie mille. E sapete che siamo arrivati in chiusura di questo pomeriggio? Siamo arrivati alla chiusura. Ma io darei anche a voi però un premio, scusate. No? Per chiudere insomma i lavori, scherzi a parte Pierfrancesco, un po', tiriamo le somme per salutare chi ci ha seguiti e chi ha ascoltato tutti i suggerimenti utili che abbiamo dato durante questo pomeriggio. Insomma, che cosa ci rimane di questa giornata? Beh, allora, la convention, come tutti gli anni, è un momento particolare della nostra vita, dell'anno di Afiesca. È un momento dove noi scambiamo tantissimo con i nostri partner, gli forniamo tutti gli aggiornamenti relativi all'anno, ma soprattutto ci concentriamo su questa parte finale che abbiamo vissuto assieme in questi minuti, che è la premiazione delle eccellenze. È innegabile, una compagnia può avere le migliori soluzioni, i migliori prodotti, la migliore struttura, ma senza i propri distributori, i propri intermediari, non va da nessuna parte. Quindi le nostre eccellenze restano la colonna portante verso la quale noi ci orientiamo per continuare a sviluppare e innovare a favore del mercato e a favore dei nostri partner. Quindi grazie ancora. Un po' come un binario, se manca un pezzo non si va oltre. Assolutamente d'accordo. È la stessa cosa, insomma, il concetto di fare strada insieme per andare più lontano possibile. Quindi insomma, mi sento di chiudere così. Luca Loforese, grazie naturalmente per il tuo aiuto. Grazie a voi. E anche per aver chiuso i lavori con noi, direi che è il modo giusto. Pierfrancesco Basilico, ci rivediamo l'anno prossimo con la convention annuale? Assolutamente sì, ci vediamo anche l'anno prossimo. La convention, ripeto, è un momento fondamentale della vita della compagnia, quindi ci sarà sempre. Grazie, grazie naturalmente e grazie a chi ci ha seguiti. Insomma, è stato un momento utile, costruttivo e guardiamo avanti e ci rivediamo l'anno prossimo. Intanto, naturalmente, prima ci sono tutte le iniziative di cui abbiamo parlato, quindi, insomma, di strada da fare ce n'è tante ed è giusto che sia così. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie.